Seconda edizione, la prima edizione è stata Sacile-Osoppo, quest'anno Pordenone, nell'ambito di Pordenone-Legge, Pordenone-Legge con la poesia, il circolo contro tempo e il volo del jazz con la musica jazz, quindi sul treno si sono alternati momenti di poesia, momenti di musica jazz, paesaggio bellissimo per arrivare a Meduno, è un modo per stare insieme, per conoscere un territorio, per conoscere anche comuni più piccoli ma lo stesso preziosi. A nostre spalle abbiamo una bellissima montagna che farà da cornice a tutta questa giornata.